oggi si cambia si può si può vivere più semplicemente un esempio il decreto legge del fare contiene molte semplificazioni fiscali da oggi se hai un debito e sei in difficoltà economica puoi rateizzarlo fino a 10 anni se invece è un credito i rimborsi sono più veloci si è il decreto del fare fai valere i tuoi diritti per aiutarci a semplificare partecipa alla consultazione online grazie